Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalle vendite su tutti i mercati azionari globali. Sta per iniziare il secondo semestre dell'anno. Cosa fare? È l'ora di comprare o è l'ora di vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, la prima carta è una carta verde. Parlavate poco fa, è proprio una strategia long sul VTI. VTI che è tornato con la fiammata di fatto di ieri a recuperare quota 110 dollari al barile. Quindi da qui io cerco un pullback proprio grosso modo sui livelli mediani di questa barra di espansione ad ampio range che ha caratterizzato la seduta di ieri. Quindi cerco un pullback per entrare chiaramente con un ordine in acquisto, quindi un'operazione buy limit, operazione che si attiverà qualora il mercato ritesterà quota 107,80. Lo stop loss è a quota 105,50 e il target è a quota 113 dollari. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie.